Il dottor Rossi ha finalmente realizzato il suo sogno, aprire uno studio odontoiatrico in una bella zona della città. Il dottore ha studiato molto, si è specializzato e ha fatto molti sacrifici per arrivare fino a qui. Le varie specializzazioni sono le sue carte vincenti. E curare al meglio ogni paziente è la sua mission. Il dottor Bianchi è titolare da anni di uno studio odontoiatrico. Il suo obiettivo è sempre stato quello di aiutare i pazienti ad avere un sorriso perfetto e denti curati nei minimi dettagli. Il dottor Bianchi e il dottor Rossi sono due professionisti che mirano a migliorare la qualità della loro vita, a saper gestire bene il loro tempo, ad avere sempre più pazienti e uno studio efficiente in tutti i suoi aspetti. Ma nonostante il denaro investito, i sacrifici e i tanti sforzi, si rendono conto che i pazienti che arrivano non bastano e che pur lavorando molto, gli incassi sono insufficienti e che spesso i riuniti dei loro studi sono vuoti anche a causa della concorrenza allo costo. Chi può aiutarli ad avere finalmente l'attività imprenditoriale che desiderano e per cui hanno faticato tanto? Chi li aiuterà a valorizzare la loro professionalità? Cador Medical è la soluzione vincente. I due dottori hanno deciso di avere un colloquio individuale gratis con un coach d'impresa di Cador Medical, gli unici coach certificati in Italia a titolo universitario, con l'obiettivo di migliorare la resa e l'efficienza dei loro studi. Il coach analizza le loro problematiche, fornisce strumenti di marketing e strategie per far aumentare sin da subito i pazienti e li invita a seguire i corsi collettivi, dove possono trovare medici come loro pronti ad acquisire le competenze imprenditoriali necessarie per gestire uno studio odontoiatrico a 360 gradi. Il dottor Rossi e il dottor Bianchi sono molto entusiasti, perché grazie al metodo di Cador Medical hanno ottenuto un percorso di crescita individuale con risultati soddisfacenti. Hanno migliorato gradualmente la qualità del loro operato e l'aspetto economico, con evidenti aumenti del fatturato. Non esitare, richiedi anche tu un appuntamento gratuito con un nostro coach e visita il nostro sito www.cador-medical.com Scoprirai che il nostro metodo è garantito da centinaia di tuoi colleghi e che partecipando ai nostri corsi, i nostri coach ti aiuteranno ad aggirare tutte le tue difficoltà, insegnandoti come proporre i preventivi nel modo corretto, per aumentare le conferme, le strategie per attirare più pazienti e fidelizzarli, per aumentare il fatturato in modo considerevole che ti faranno guadagnare veramente, a gestire il tuo personale, creando una squadra vincente. Keidor Medical, l'azienda numero uno in Italia di formazione e coaching per studi odontoiatrici.